In occasione del 245esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale Roberto Prosperi rende noti i risultati ottenuti dal corpo in provincia tra il gennaio del 2018 e il maggio del 2019, attraverso interventi mirati, indirizzati nei confronti di target accuratamente selezionati, grazie ad una capillare attività di intelligence. In un territorio in cui l'economia ha delle difficoltà, significa che esprime anche delle potenzialità di reddito inferiori rispetto a altre aree territoriali della Regione Calabria. Per cui il contrasto all'evasione fiscale, tanto per prendere spunto, esiste, ma sicuramente non porta numeri eccessivi, proprio tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche delle imprese e dei professionisti che vi operano. Qual è il reato economico-finanziario più comune in questo territorio? Per quanto riguarda, sempre nell'ambito dell'aspetto della Polizia Tributaria, sono stati denunciati diversi soggetti per reati tributari, tra i quali i reati più insidiosi sono l'occultamento delle scritture contabili, l'omessa dichiarazione o la dichiarazione fraudolenta o infedele ai fini dei redditi, o altri reati, diciamo così, minori. Ma questo ci conferma un dato significativo, ovvero che si tratta di un'evasione fiscale che può sfociare nel penale, ma un'evasione fiscale che noi consideriamo di base, cioè che si fonda molto spesso su un'omessa fatturazione o registrazione delle operazioni, ma non è sicuramente quel territorio come potrebbe essere quello del nord-est, o comunque in generale del nord, dove ci sono sistemi più fraudolenti di evasione fiscale. Quindi anche i reati sono più insidiosi da scoprire. Risultati importanti anche in ambito pubblico? Sì, un'importante attività che abbiamo posto in essere come guardie di finanza nell'intero territorio della provincia è il controllo della spesa pubblica, perché la spesa pubblica per noi, dal punto di vista strategico, ha la stessa importanza della cosiddetta polizia tributaria, con riferimento alle entrate. La spesa pubblica ci permette di contrastare tutti quei fenomeni che in qualche modo sono una distorsione dell'economia attraverso delle truffe, delle malversazioni, delle indebite percezioni di finanziamenti che quindi incidono sulle spese della collettività, ma finanziamenti che possono addirittura essere erogati non solo dallo Stato italiano e dalle regioni, ma anche dall'Unione Europea. E abbiamo riscontrato che questo fenomeno delle truffe in senso ampio è abbastanza diffuso nel nostro territorio, con riferimento ad esempio al settore della politica agricola comune. Credo sempre in ragione delle caratteristiche, appunto, anche agricole che questo territorio ha rispetto ad altri.